E' difficile uno, non è che dici che è facile, è difficile. Che cosa? Il cruciverbo, questo che ho io. Ma perché? Purì sto trovando difficoltà. Faccio pure io il cruciverbo. Comunque, se vuoi qua che è male, non lo so. Sette verticale, per esempio. Di. Famoso quello di Troia. Figlio. E' vero. E tu sei facile. E' il cicolano. Il blocco, certe volte, così, come uscire. Lo sai tu questo, questo è il quattro orizzontale, si mette durante il sorpasso. Durante il sorpasso? Eh. Il dito medio. Come è il quattro orizzontale? Eh, non c'ho fatto. E questo è fame, ma che l'avessi io qua? Questo è difficile, eh. Questo è orizzontale. Già se fosse verticale, già saremmo più fatto. Voglio dire. Si alza durante le discussioni. Si alza durante le discussioni. Mi che fa? Si alza che può essere tanto. Quante lettere, eh? Quattro, so. E' un cric. E' un mutio di una mazza di cric. C'è se ci penso poi così, cric. Allora, col K è schifo. Con la C, nel dubbio, mentre le tutele non si sa mai. K e C, open C, K. Eh, la K è prima. C, K. C, K. Si accoppia con il dolce. Gabbana. Dolce gabbana. Mai sentito. No. Così accoppia con il dolce. Dolce gabbana. Quella è tutt'una. Hai ragione. A me sei ne sono rimasti. A me sono decise. Siete un po', dammelo qua. Otto orizzontali. Si dice entrando. Si dice entrando, entrando, entrando. Mani in alto. Ehi, mai l'hai sentito? Arriviamo dopo noi, però voglio dire. Madonna, due. Verticale, che poi li odio, verticale, perché l'orizzontal già è più facile da scrivere. Due verticale, fa coppia con Rick. Chione. Eh sì, quando li unisci. Parola che finisce con in. 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 In, i-n. In. Trattorin. Trattorin. No, forzato. Trattorin. Inter. No, quelle. Scene. Quelle i. Devi finire con in. In. Amicin. No. Non esiste. In. 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 Ma io, ma mi devo bloccare per questo. In. Collega. Oh, scusi. Dimmi. Scusi. Parola che finisce con in. I-n. I-n. Domenica. 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 Sì. Domenica finisce con K. Domenica in. Domenica. Ma come è che non c'è l'ordine? Che puoi esci prima o poi? Senti questa, senti. Anima le feste. La rissa. È vero. Ammazzare le bottiglia. Poi arriviamo noi. Calma. Non è il resto di... Ah. Ci vuole la rissa. Non gli feste ci vuole. E' a me qua. È da mamma. Con 48 orizzontali. La ripete il bocciato. Che cosa? La ripete il bocciato. Ma bestemmia. Ma fa pochi da mamma. Ah. Sì. Non è vero. C'è. E' quello qua.